Buongiorno, ben trovati. Il lunedì 26 febbraio 2018, primo appuntamento della settimana con Mattino 6, la nostra consueta rassegna stampa con le prime pagine dei giornali, un inizio di settimana contraddistinto e contrassegnato dal maltempo. Questa mattina tutta la nostra regione si è risvegliata sotto la neve, nelle zone interne ma anche sulla costa sta nevicando proprio dalla scorsa notte. È situazione che per il momento è sotto controllo ma le previsioni annunciano neve anche per le prossime ore, anche per la giornata di domani. Ne parleremo anche questa mattina nel corso di questo appuntamento con la nostra rassegna stampa e anche con gli aggiornamenti se dovessero arrivare. Partiamo con le prime pagine del centro, edizione di Pescara, vedete tra l'altro il titolo che riguarda proprio il grande gelo, scuole chiuse due giorni, attivato il centro operativo, il COC dei vigili a Pescara, un numero per le emergenze, il comune non uscite, paura in via del santuario, frana un cantiere, evacuata palazzina con 14 persone. E poi vedete mille crateri a Pescara, effetto pioggia, la città si riempie di buche, si parla anche di calcio, si parla di calcio come ogni lunedì, lo faremo anche noi nella seconda parte parlando anche del maltempo ma anche di sport, di calcio in particolare andremo a vedere i servizi delle partite, delle gare di serie D giocate ieri ma si parla anche del Pescara, Pescara nel 2018, difesa ok, attacco flop. Tra l'altro domani sera in calendario è prevista una giornata di campionato in serie B, un turno infrasettimanale di campionato in calendario, cioè alle 20.30 lo stadio adriatico Pescara Carpi, gara lo possiamo dire già da questo momento fortemente a rischio. A causa del maltempo e della neve lo stadio adriatico è ricoperto, il manto erboso dello stadio adriatico già questa mattina all'alba era ricoperto da qualche centimetro di neve, ne sapremo di più nelle prossime ore. Vediamo le altre notizie, la cronaca, Civitacuana allevatore ferito dal toro ricoverato in ospedale a Pescara in gravi condizioni. Andiamo a vedere la prima pagina di Chieti-Lanciano-Vasto del centro, anche in questo caso maltempo, notizia principale su tutte le edizioni, su tutti i quotidiani, allerta neve e ghiaccio, scuole chiuse. Sospese oggi le attività didattiche a Chieti-Lanciano-Vasto-Edatessa, stop del prefetto ai mezzi pesanti, nel capoluogo strade piene di buche per la pioggia, ad Ortona rischio e sondazione ai saraceni. E poi la serie D e l'eccellenza, calcio la domenica nera di Vastese-Chieti, Vastese sconfitta in casa dalla Vispesaro in serie D, Chieti battuto a Giulianova nel big match di eccellenza. E poi la cronaca, abusi sui piccoli atleti, sentite altri ragazzi, la difesa della persona indagata lo chiede alla procura del Repubblica di Chieti. E poi Lanciano-Mercato-Lalite sulla gestione finisce al Tarra. Andiamo a vedere anche la prima pagina di Teramo del centro, una frana sull'auto ferita donna incinta, emergenza maltempo in provincia, e sfiorata la tragedia sulla Statale 80 tra Teramo e Montorio. E poi vedete il titolo di spalla, Teramo-Istituto Braga causa contro il comune scontro sugli stipendi. E poi l'inchiesta, ragazza accusa i genitori, mi maltrattano. E poi a centro pagina vi dicevo il calcio, in questo caso si parla di eccellenza, della vittoria del Giulianova sul Chieti. Giulianova che vince e mette le mani sulla serie D. Siamo alla pagina del centro, la prima pagina in questo caso di L'Aquila-Vezzano-Sulmona. Arrivano neve e gelo, scuole chiuse, è sempre ovviamente questa la notizia principale. Poi calcio di serie D, L'Aquila ed Avezzano, due pareggi al freddo. E poi ancora Avezzano, il vice sindaco ribelle, crea tensioni in giunta. Vice sindaco, vedete nella foto, Emilio Cipollone. E poi Sulmona, più in basso, una notizia che riguarda la Valle Peligna, si apre una voragine in strada. Ed è polemica. Andiamo a vedere anche la prima pagina del messaggero Abruzzo dell'inserto. Serrata totale per Buran, previsto per oggi l'arrivo dell'ondata di maltempo. Chiuse quasi tutte le scuole della regione. Scattata la corsa all'accaparramento di generi di prima necessità, schierati mezzi antineve. Come vi dicevo, da questa mattina, anzi dalla notte scorsa, nevica in tutta la nostra regione. E anche sulla costa, da Martinsicuro fino a Vasto, dunque tutta la costa abruzzese, alle prese con la neve. E poi il caso, vedete, di spalla, pena di morte in Thailandia. Appello per Denis Cavatassi, cittadino nostro, corregionale, cittadino abruzzese. E poi Pescara, la cronaca, giovane aggredito ed abbandonato sul fiume. La vittima è un trentenne di Silvia, è stato ricoverato con un trauma cranico all'ospedale di Pescara. Ci sono le indagini della polizia. E poi Pescara come Roma si apre una voragine. Palazzina a rischio è stata evacuata per motivi di sicurezza fuori casa alcune famiglie. E poi in basso Giulianova, vedete, coltellata a scuola, sfilano i testimoni. Ricorderete questo fatto accaduto la settimana scorsa in un istituto superiore di Giulianova. Lasciamo per il momento la pagina regionale con le prime pagine dei quotidiani della nostra regione. Siamo alle prime pagine dei quotidiani nazionali. Siamo al Corriere della Sera. Freno dei leader alle larghe intese per il governo. Si parla di elezioni perché questa è l'ultima settimana di campagna elettorale. Probabilmente quella decisiva. Domenica si andrà al voto in Italia. Elezioni politiche. Poi l'ondata di gelo. Cade un pilone. Venezia isolata. Ma al tempo anche al nord. Vedete Burian a Roma, scuole chiuse. Tra l'altro è nevicato questa notte e sta nevicando ancora anche a Roma. Un evento sicuramente ancora più eccezionale rispetto a quello che sta avvenendo nella nostra regione. Scuole ed uffici chiusi nella capitale. Scuole chiuse in Abruzzo. Per il mal tempo. Il fatto quotidiano. Pagava la mafia. Insulta il fatto. Vedete questo titolo del fatto quotidiano in primo piano. Berlusconi come B. Come basta. Sta per Berlusconi che vedete nella foto. Il che mano contro il libro di Travaglio che cita il verdetto dell'Utri. E poi storia di copertina. I giovani non contano più. Chi sceglieranno i neo elettori da poco maggiorenni. La Repubblica. Beltroni e Renzi con Berlusconi. Nessun accordo. Dunque potrebbero allontanarsi le larghe intese per quanto riguarda il dopovoto. Le prossime elezioni. E poi nel 2022 finirà l'era diesel. Fiat Chrysler Automobile pronta all'addio. Costi alti e limiti emissioni. Vedete questo titolo di Repubblica nella parte bassa della pagina. E poi andiamo avanti. Il messaggero di Roma. Allerta neve. Il caso Roma. Polemica sulle scuole chiuse. Ma mai come questa volta l'idea, anzi più che l'idea, la decisione di chiudere le scuole è stata azzeccata. Perché a Roma era prevista neve e questa notte a Roma è arrivata la neve anche in maniera abbondante in alcuni quartieri della capitale. E poi lo sport. La Lazio vince in volo 3 a 0 al Sassuolo. Roma troppi errori con il Milan che passa all'Olimpico per 2 a 0 con le reti importanti segnate dalla formazione rossonera. Con Cutrone nel primo tempo, scusate, poi nella ripresa, il raddoppio di Calabria. Questo è il risultato più importante della giornata di ieri in Serie A. E poi larghe intese. Il giorno dei no, duello Veltroni-Berlusconi. Dunque si infiamma la campagna elettorale. E poi il mattino di Napoli. La sfida delle grandi alleanze. Vedete il titolo a centro pagina. E poi in alto. Messico, i napoletani venduti per 43 euro, Desaparecidos, Farnesina e Servizi Segreti, Nazione in Centro America. Indagini delicatissime per chiarire la scomparsa di questi tre cittadini italiani che vedete nella foto. Ma al tempo anche in Campania al Sud, grande gelo e neve, scuole chiuse, rinviata ieri in Serie A la gara tra Atalanta e Juventus. O per meglio dire tra Juventus ed Atalanta. Gara che doveva disputarsi allo Juventus Stadium. Sole 24 ore, liti fiscali online, un atto su quattro. Accelera il processo tributario telematico. Servono più tutele sui ricorsi. Siamo alla stampa di Torino. Renzi, mai con Di Maio. I grillini lanciano il governo delle donne. I 5 Stelle esteri interno, difesa al femminile. Un generale guiderà il Ministero dell'Ambiente. Se ci sarà il governo a 5 Stelle. E poi vedete, la Cina vuole abolire il limite dei due mandati. Xin Yangping, come Mao, la presidenza è a vita. Andiamo a vedere anche il tempo di Roma. Allarme neve a Roma e la raggi vola in Messico. Ordinanza del Campidoglio. Scuole chiuse, romani state a casa. Scuole chiuse a Roma, romani questa mattina a casa. Poco traffico nella capitale. Neve inottata e anche in questi minuti nella capitale. Andiamo avanti. Libero, Salvini, credente, irrita il Vescovo. Criticato perché giura sul Vangelo. Questo è l'articolo di taglio alto di apertura su Libero. E poi è arrivato il Buria. Non data di gelo. Il freddo, parifica, clochard, animali. Muoiono tutti. Questo è l'altro titolo che riguarda il quotidiano Libero. Andiamo a vedere il giornale. Altro quotidiano vicino al centro-destra. Tra sei giorni dal voto il vento del nord soffia sul centro-destra. Sondaggi segreti e piazze piene. Le roccheforti rosse tremano. Berlusconi subito, dice il presidente di Forza Italia. Il presidenzialismo. E poi Fiat Shock. Addio al diesel. Da 2022 abbiamo visto anche su Repubblica. Il secolo d'Italia rischio estinzione. Questo è il titolo con corredo di foto. Vedete queste culle con dei bambini perché in Italia il problema della natalità è diventato davvero un grosso problema. Nascono sempre meno bambini. Abbiamo esaurito l'edicola nazionale con i titoli dei quotidiani. Oggi in edicola torniamo sul centro. Parliamo di Burian in Abruzzo. Mal tempo, come detto, neve da questa notte in tutta la nostra regione. Dal confine con le Marche al confine con il Molise. Scuole chiuse in quasi tutta la regione e limitazioni al transito dei mezzi pesanti. Su A24 e A25. A25 apre il centro operativo. Andiamo a vedere. Temperature in calo. Meno 20 nel Fucino. E poi in Italia neve e gelo siberiano. Venezia crolla il pilone. Problema delle prossime ore è soprattutto quello del ghiaccio perché nella prossima notte sono previste temperature che vanno da meno 20 dal Fucino e dall'Aquilano fino ai meno 6, meno 7 della costa. Dunque problema ghiaccio nella prossima notte in Abruzzo. L'Abruzzo invece verso il voto del 4 marzo. Vedete quest'altro titolo. Ieri c'è stata la convention di Forza Italia al cinema massimo di Pescara. La vittoria. Un obiettivo a portata di mano per salvare l'Abruzzo e l'Italia, dicono i rappresentanti e i candidati del centro-destra. Critiche al grillino Zeman. Non ci venga a dire chi votare. Se ne è parlato anche ieri alla convention di Forza Italia. E questo dopo le esternazioni del tecnico del Pescara. Andiamo a vedere anche qualcosa che riguarda la politica nazionale. Veltroni in campo con Gentiloni. Berlusconi dice un avversario e poi il primo nome di Di Maio all'ambiente. Un generale e poi in Cina Xi presidente a vita. Nuova Costituzione via il tetto ai mandati. Qualche notizia di cronaca dal nostro paese. A Brescia fumo in discoteca, 17 intossicati. E poi i tre italiani scomparsi in Messico, rapiti e venduti ad una banda per 43 euro. Siamo alla cronaca dalle province. Siamo a Pescara. Misteriosa aggressione. All'alba di ieri in centro. A Pescara preso a pugni e lasciato a terra svenuto. Gli chiedono i cavetti per l'auto e lo picchiano nel parcheggio della Golena Sud, giovane di Silvi, in prognosi riservata all'ospedale di Pescara. E poi ferito dal toro. Allevatore in gravi condizioni. Questo è il titolo che riguarda questo fatto. Accaduto a Civitacuana. L'uomo, 44 anni, è stato colpito mentre stava mungendo le mucche nella stalla. Andiamo a vedere. Allarme maltempo. Giole e buche a Pescara. Scuole chiuse due giorni. A Pescara è arrivata la neve. Neve sia nella parte bassa della città, sulla costa, sia ovviamente anche nelle zone collinari di Pescaracolli, di San Silvestro. Dunque, situazione da monitorare. Tra l'altro è previsto un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo. Dunque, anche a Pescara ci potrebbero essere dei problemi nelle prossime ore. Città che non è abituata, come altre, alla neve. E poi, il maltempo potrebbe essere la causa di uno smottamento ai colli. Ieri pomeriggio frana il cantiere, Palazzina Evacuata, in 14 costretti a lasciare le abitazioni. E poi, oggi e domani, non a scuola, a Spoltore e Montesilvano, ma anche in altri centri, molti, moltissimi centri della nostra regione. Poi, Farindola si protegge con i trattori. Nel paese ferito un solo mezzo comunale, altri otto messi a disposizione dei privati. E poi, provoca incidente sulla variante Fugge, Montesilvano, la polizia a caccia del pirata della strada che ha scaraventato l'auto che lo precedeva contro il guardrail. E poi, Torre dei Passeri, morto nello schianto dell'altro giorno, folla all'addio del 62enne, vittima di questo incidente a Torre dei Passeri. Siamo a Chieti, l'allenatore sotto accusa, abusi su minori, sentite altri ragazzi. L'avvocato Anton Angeli chiede nuove indagini alla procura. Il tecnico Furguele, interrogato in carcere, respinge tutte le accuse. Il difensore del 52enne poi ha aggiunto, abbiamo depositato una dettagliata memoria al pubblico ministero Falasca, da lui aspettiamo un'inchiesta a 360 gradi. E poi, consorte, violati i divieti asle sulle terapie, l'ortopedico sospeso ha ignorato la circolare del direttore Salini, che vieta alcune cure nell'ospedale di Ortona. E poi in basso è di vasto uno dei papà del robot pompiere, l'ingegnere Luca Muratore, 28 anni, il più giovane del team, che ha costruito l'automa Walkman. Siamo alla pagina dell'Aquila, del centro, la crisi in comune, strappo in giunta, c'è il caso vice sindaco, Aratari e Domenici fanno dietro fronte, non i fedelissimi di Cipollone, Fratelli d'Italia salta il vertice di centrodestra. Centropagina, l'Aquila, Intex, mancano quattro stipendi, licenziamenti impugnati. E poi Scanno, piange la sua principessa, morta a 68 anni, la Schoenberg, era l'anima del premio letterario, Fondazione Scanno, in lutto per questa scomparsa. E poi in basso all'Aquila si parla di tasse da restituire, partono i ricorsi, l'Aquila, le associazioni di categoria, contro la nomina del commissario ad acta disposta dal governo. Proseguiamo, siamo alla pagina di Teramo del centro, emergenza maltempo, frana colpisce auto, ferita donna incinta, vedete il titolo a tutta pagina, tragedia sfiorata sulla Stata L'Ottanta, tra Teramo e Montorio, Macigni e Fango mandano in frantumi i finestrini della vettura. E poi in basso la cronaca, una sedicenne accusa i genitori di maltrattarla, la ragazzina allontanata da casa dal Tribunale dei Minori, sul caso sono state aperte due inchieste. Siamo arrivati alle pagine dello sport, ma dobbiamo andare a vedere le pagine interne dell'inserto abruzzo del messaggero, poi parleremo anche di maltempo tra qualche minuto. Partiamo da Pescara, in attesa della neve, voragini e buche, Pescara in ginocchio, la frana, vedete anche le immagini in via del santuario, evacuata una palazzina, in azione i vigili del fuoco, ma si diceva in attesa della neve, la neve è arrivata a Pescara, sta nevicando dalla scorsa notte, poi pestato e abbandonato sul lungo fiume, mistero sull'aggressione di un trentenne, indaga la polizia, e poi tampona una donna sulla tangenziale e fugge, caccia al pirata della strada. E in basso, verso il vuoto, domenica di convention e polemiche a Pescara, ma non solo, c'è stata la convention di Forza Italia, al Cinema Massimo, ma anche altri appuntamenti elettorali nell'ultima settimana di elezioni. Alla pagina dell'Aquila del Messaggero, siamo in questo momento, arriva il Buran, pericolo ghiaccio, le scuole chiuse per due giorni, vertice domenicale negli uffici comunali, a preoccupare sono soprattutto le temperature previste, pensate all'Aquila, fino a meno 15, e poi disagi, sporcizia, rumori, è dura tornare in centro la difficile rinascita del centro storico dell'Aquila. Poi l'inchiesta, mazzette per i lavori, dipendente del MIBACT licenziato. Siamo alla pagina di Avezzano Sulmona, partiamo da Avezzano, l'ex cartiera Burgo, riparte ed assume da metà marzo le prove tecniche, si va verso un polo tutto marsicano che ora si dedicherà a produrre cartone, e poi rientrano subito 90 unità, ma al sindacato c'è chi vede un futuro rosio sul fronte occupazionale. Ancora Avezzano, neve e gelo, il sindaco chiude le scuole per la giornata di oggi, ancora nella città marsicana, i cestini pubblici usati per gettare l'immondizia, multe da 600 euro. Da Avezzano e dalla Marsica ci spostiamo in Valle Peligna a Sulmona, Sulmona, l'assessore Angelone, piano neve, siamo pronti, è arrivata la neve anche in Valle Peligna. E poi ancora Sulmona, vogliono le auto in centro, sono pronto a dimettermi, dimettermi, lo dice l'assessore Cristian, la civita attaccato dagli esercenti che minacciano una dura protesta con corteo Essitin davanti al comune. E poi, tornando ad Avezzano, Carabinieri, l'ex capitano Diana e generale, Diana e capitano, oggi generale ad Avezzano nel 1996. E poi, la politica avezzanese, De Angelis si dimette, il PD si decida in consiglio, si parla della crisi al comune di Avezzano, l'Anatra Zoppa, di cui tanto abbiamo parlato anche nei nostri Tg. Siamo alla pagina di Chieti, del messaggero, neve gelo, scuole chiuse, asfalti distrutti dalla pioggia, in centro allo scalo, aperte buche profonde e pericolose per la viabilità, lanciano supermarket presi d'assalto, il pane è andato esaurito in diversi forni, corsa agli acquisti, in previsione del maltempo, che è puntualmente arrivato. E poi il medico sapeva di violare anche le direttive della ASL, furbetto in ospedale, questo è l'articolo di spalla. E poi, tornando al maltempo, niente lezioni a Vasto, San Salvo aspetta, le scelte diverse del sindaco di Vasto Menna e del primo cittadino di San Salvo Magnacca, ma come abbiamo visto, un po' in tutto l'Abruzzo è arrivato il gelo, è arrivata la neve. Ad Ortona, litorale flagellato e sonda il torrente Saraceni, vedete le immagini, torrente monitorato per la pioggia, e poi mezzi spargitali in azione vicino all'ospedale e alle scuole, clochard soccorso al mercato ittico. Siamo alla pagina di Teramo del messaggero, frana precipita su un'auto con donne cinta a bordo, successo intorno alle tre di notte lungo la strada provinciale 80, Teramo-Montorio-Alvomano, oggi scuole chiuse nel capoluogo, si adeguano anche i comuni di Atri e Castiglione, Messer-Raimondo, e poi Val Vibrata, vedete di spalla, il territorio Cenerentola, esprimerà un parlamentare. Non succedeva dai tempi di Distanislau, in Lizza ci sono Sandro Mariani del PD, Lucrezia Rasicci della Lega Salvini, Antonio Zennaro del Movimento 5 Stelle. A Corropoli si restaura dipinto da Arquata del Tronto, mentre a Giulianova è stato eletto il nuovo direttivo del Circolo Migliori. Ci spostiamo in basso, ma restiamo sempre a Giulianova, ragazzo ferito, studenti e docenti, sfilano dai carabinieri. Siamo arrivati alle pagine dello sport, allora prima di fermarci per qualche attimo possiamo a questo punto aprire la pagina sportiva parlando del Pescara, Pescara diviso, così butti i play-off. Questo è il titolo principale del messaggero, ormai la situazione Zeman, Sebastiani e Gelida, l'impegno politico di Zeman, o presunto tale, non piace a tutti, la partita con il Carpi di martedì sera diventa lo spartiacque di tutta la stagione, ma come vi dicevo, partita in forte dubbio per la neve. E poi la nazionale di di Biagio, il cuore biancazzurro, ci sono delle convocazioni anche di ex giocatori del Pescara, uno su tutti, Zampano, che oggi è all'Udinese. E poi in basso il calcio a 5, Pescara a Reggio, anticipo Final 8, diretta televisiva contro il Caos, Iannascoli, il patron della formazione biancazzurra di calcio a 5, dice, quest'anno ci è mancata la continuità. Vediamo anche le prime pagine dello sport del centro, Pescara caccia del gol perduto, peggiore attacco del girone di ritorno, a secco su azione da 496 minuti, rischio rinvio della gara con il Carpi, ve lo dicevo qualche minuto fa, Pescara c'è la neve, probabilmente ci sarà il rinvio, almeno se la situazione non dovesse migliorare, ci sarà il rinvio della gara con il Carpi, per neve e ghiaccio. Andiamo a vedere le pagine interne che riguardano il calcio di Serie A, prima di parlare delle partite di Serie D e delle formazioni abruzzesi, Roma-Milan 0 a 2, passa il Milan all'Olimpico, il Milan un ciclone, vince anche a Roma, Rosso e Neri a meno 7 dal quarto posto, la cura Gattuso sta facendo miracoli. L'altra formazione romana invece, la Roma perde con il Milan, la Lazio vince 3 a 0 a Reggio Emilia, al MyPay Stadium con il Sassuolo, e il duello scudetto con la Juve che però resta a guardare, rinvio neve per Juventus-Atalanta, recupero 13 o 14 di marzo, mercoledì ancora l'Atalanta in Coppa Italia, e poi Napoli a Cagliari, è la prima di 13 finali, gara in posticipo. Andiamo a vedere anche qualche titolo che riguarda il calcio internazionale, Maurigno prima due golle, poi la carezza a Conte, il Manchester United piega e rimonta il Chelsea, il tecnico italiano dice quest'anno è difficile arrivare in zona Champions, lo ha detto Conte, il tecnico della formazione londinese del Chelsea. Siamo al Pescara, vedete il titolo a tutta pagina, Pescara non segna, ma Fiorillo gode, tre partite senza subire golli, il portiere ad un passo dal record di imbattibilità in carriera. Sono questi i paradossi del Pescara di Zeman, che non prende gol, ma fa grandissima fatica a segnare. Parlando di Fiorillo, nel 2014-2015, l'estremo difensore è riuscito a tenere la porta inviolata per poco più di tre gare di fila, 312 minuti, l'attacco in difficoltà, è il peggiore della Serie B nel girone di ritorno, e questo è un dato che deve far riflettere. A proposito della gara di martedì sera, di domani sera, neve permettendo con il Carpi, Calabro senza lo squalificato Ligi, in avanti l'ex Biancazzurro Melchiorri e Mbakogu. E vedete il titolo in basso, se si giocherà, turnover contro il Carpi, risinchio rinvio per il maltempo, Pettinari proverà a riprendersi, il posto in attacco, ma la neve potrebbe far rinviare la partita fra Pescara e Carpi, campo dello stadio adriatico Giovanni Cornacchia, già ricoperto da uno sottile manto bianco questa mattina. Parliamo del Teramo, la Serie C, Biancorossi in crisi, Teramo giuce l'incubo Serie D, 2 punti, 5 gare per il Diavolo, Paladini sotto esame, ma Speranza non molla, e dice, siamo vivi. Prima di aprire la pagina della Serie D, ma per tornare a parlare anche di maltempo, noi ci fermiamo qualche attimo, poi torneremo in studio per la seconda parte di mattino 6. Torniamo in diretta, seconda parte di mattino 6, come detto, finestra obbligatoria per quanto riguarda il maltempo, in questo appuntamento con mattino 6, Abruzzo che si è risvegliato sotto la neve, condizioni che potrebbero, condizioni meteorologiche che potrebbero peggiorare nelle prossime ore, soprattutto con l'abbassamento delle temperature. Noi abbiamo in collegamento telefonico il nostro meteorologo Luca Mennella, che vado a salutare. Buongiorno Luca. Buongiorno a voi. Allora Luca, questa mattina tutta la nostra regione si è risvegliata sotto la neve, previsioni che annunciavano il maltempo, il freddo e la neve, neve che è puntualmente arrivata, neve anche sulla costa, da Martinsicuro fino praticamente a Vasto. Qual è la situazione e quali sono? Ti chiedo anche le previsioni per le prossime ore. Sì, effettivamente in queste ore sta nevicando lungo tutta la fascia costiera abruzzese, con nevicate principalmente di moderate e debole intensità. Nelle prossime ore dovrebbe continuare in questo modo, con nevicate principalmente moderate, soprattutto lungo la fascia costiera. Poi verso l'ora di pranzo, diciamo, tenderà a migliorare, tuttavia saranno ancora possibili, fino alla tarda serata odierna, deboli, moderate e nevicate, sparse lungo tutto il territorio abruzzese, in particolar modo sul versante orientale. Il problema Luca è quello della neve, ma soprattutto, correggimi se sbaglio, del ghiaccio, perché nella prossima notte sono previste temperature nella nostra regione, abbondantemente sotto lo zero, anche sulla costa, è così? Sì, effettivamente le temperature tenderanno a scendere ulteriormente fino alla giornata di domani e molto probabilmente, soprattutto domani, non riusciremo a trattare lo zero nemmeno sulla costa. Per quanto riguarda invece le precipitazioni nevose, ci dicevi, potrebbe esserci un miglioramento nell'ora di pranzo, invece per quanto riguarda il pomeriggio, la serata e la giornata di domani, quali sono le previsioni per la nostra regione? Pomeriggio sera avremo ancora precipitazioni principalmente deboli e sparse, soprattutto lungo la fascia costiera, poi della serata tenderà a migliorare, il mattino di domani sarà ancora piuttosto buono, deboli nevitate potranno interessare soprattutto l'alto terramano e il vastese, soprattutto in mattinata, ma poi tenderà a migliorare. Tuttavia nel corso della serata, pomeriggio sera di domani, nuove precipitazioni potranno tornare ad interessare in particolar modo la fascia costiera, ma si tratterà sempre di precipitazioni principalmente deboli o moderate. Benissimo, grazie, grazie a Luca Mennella, buon lavoro, buona giornata e dunque abbiamo sentito anche le previsioni del tempo in diretta con il nostro meteorologo, continuerà a nevicare, ci sarà un miglioramento forse intorno a ora di pranzo, ma nella serata, nella nottata e anche domani a tratti continuerà a nevicare. Abbiamo sentito soprattutto sulle zone costiere, ovviamente vi aggiorneremo anche nel corso dei nostri Tg, delle nostre edizioni dei Tg, alle 14, alle 19 e alle 23, proprio per seguire costantemente la situazione del meteo nella nostra regione. Noi possiamo, chiusa questa parentesi d'obbligo sul maltempo, mentre continua a nevicare nella nostra regione anche in questi momenti, dicevo chiusa la parentesi sul maltempo, possiamo tornare a parlare di calcio, abbiamo visto i titoli che riguardano il Pescara, il calcio nazionale di Serie A, la crisi del Teramo, possiamo aprire a questo punto la pagina della Serie D, lo facciamo con l'Aquila-Francavilla, il derby giocato ieri allo stadio Gran Sasso d'Italia, Italo-Acconcia, 0-0 pareggio nel gelo, tanto per restare in argomento, un tempo a testa, i giallorossi sprecano con amenta, il rosso-blu con Ibe, due reti annullate, i padroni di casa, 0-0 tra l'Aquila e Francavilla, iervese soddisfatto, il patron Candeloro dice brava, l'Aquila, Battistini tecnico invece dell'Aquila, non possiamo sbagliare, tanti gol rimprovera i suoi giocatori, noi andiamo a vedere quello che è successo con l'ausilio delle immagini, nel servizio realizzato per noi da Ania Cantagalli. Il derby con vista playoff tra l'Aquila e Francavilla finisce 0-0, ma visti in concomitanti risultati, tutto rimane ancora possibile per entrambe le formazioni. Gagliardini, Neo e Nesto Aquilano al ritorno, tra l'altro il rosso-blu si siede in panchina, con Battistini, che preferisce Fabrizi ad Ibe per far coppia con De Julis in avanti. Nel Francavilla invece pesanti assenze nel reparto avanzato, con Fofanà e Palumbo squalificati, e Zerbo infortunato. Che la posta in paglia o sia alta, lo si capisce dal livello di agonismo messo in campo da entrambe le squadre, ma di occasioni vere e proprie, almeno nella prima mezz'ora di gioco, non se ne contano. Bisogna invece attendere nello specifico il 29esimo, per vedere De Julis insaccare un cross dalla sinistra di Boldrini dopo un'iniziale respinta di Fargione. Il secondo assistente però, tra le proteste aquilane, segnala la posizione di fuorigioco dell'attaccante rosso-blu. L'episodio però sembra destare il Francavilla, che aumenta la pressione e si porta con maggiore convinzione in avanti. Quello che si divora al 36esimo a Menta è difficile da raccontare. Il difensore raccoglie una bella iniziativa di Alexic dagli sviluppi di una punizione, ma forse troppo convinto di segnare, indirizza invece incredibilmente fuori. La formazione di Battistini dà comunque sempre l'impressione di poter essere pericolosa quando si porta avanti. Al 40esimo, Fargione e De Julis rimangono a terra dopo uno scontro per raccogliere un cross di Boucher, ma i due si rialzeranno comunque poco dopo. Un minuto dopo, altro gol annullato all'Aquila, questa volta Fabrizzi, per un fallo precedentemente fischiato. Nel recupero, altra occasione rosso-blu, con Boldrini che va al tiro, ma il diagonale, che ne esce fuori, non è preciso. Ad inizio ripresa, Battistini inserisce Ibe per Fabrizzi e proprio l'attaccante sarà protagonista in negativo al decimo. Amenta gli lascia campo aperto per un problema muscolare, ma davanti a Fargione, il centravanti Aquilano, si divora un'occasione colossale. Il difensore del Francavilla, invece, deve lasciare il campo in barella con Di Pietrantonio, che ne prende il posto. Al 20esimo, Boldrini mette in difficoltà Fargione da calcio di punizione, ma il Francavilla riesce poi ad allontanare il pericolo. Dopo Amenta, la squadra di Iervese perde anche Baba, Codipenti, ma poi a sostituirlo. Occasione potenziale, invece, quello che capita ai padroni di casa al 33esimo, quando Padovani viene anticipato sul più bello, mentre era sicuro di poter battere a rete. Altra buona occasione rosso-blu al 40esimo, quando Boldrini impegna dalla distanza Fargione, ma Caffiero, che raccoglie la respinta del portiere, non inquadra la porta. Pochi istanti dopo, Ibe spreca un prezioso assist di Padovani, indirizzando invece il pallone fuori. Il Francavilla sembra sulle corde, e Pupeschi, di un soffio, non riesce a girare verso la porta un nuovo calcio di punizione di Boldrini. Questa è praticamente l'ultima emozione di un match che finisce a reti bianche e che non dà giudizi definitivi per la corsa play-off. Non si arresta la crisi della Vastese, che cede anche alla Viz Pesaro, ieri gara giocata allo Stadio Aragona, e la quinta sconfitta di fila per la formazione del tecnico Colavitto, nella ripresa a tentativo di reazione, ma senza creare occasioni pericolose. Passa dunque la Viz a Vasto per 2-0. Andiamo a vedere il servizio. La Ragona sempre più terra di conquiste per le formazioni avversarie. Questa volta a fare bottino pieno in terra d'Abruzzo è stata la Viz Pesaro che si imposta per 2-0, trascinando sempre più nel tunnel della crisi la Vastese arrivata a sette sconfitte nelle ultime otto gare. Al cospetto della seconda della classe si è vista la solita squadra anche generosa, ma anche e soprattutto senza idee, senza gioco e con le polveri bagnate. Spiegare quello che sta accadendo ai ragazzi del presidente Bolami non è affatto semplice con una situazione che potrebbe davvero sfuggire di mano a tecnico e società e con una tifoseria che sembra ormai aver perso la pazienza. Colavitto non rinuncia al 4-3-3 ritrova in difesa Iaroci anche se deve rinunciare a Defeo e Maronilli. In attacco regolarmente a disposizione Bittai e Marchigiani in campo senza radi e carta e con un inedito 4-2-3-1 freddo e pioggia all'Aragona con 600 spettatori circa sugli spalti e con gemellaggio fra le due tifoserie con tanto di pranzo pre-partita. In campo è però subito battaglia con i padroni di casa all'attacco la prima clamorosa occasione arriva al decimo però per gli ospiti con un colpo di testa sotto misura di Bortoletti che si divora il gol del vantaggio che arriva però al quarto d'ora quando su una punizione dalla sinistra di Ridolfi Camerlengo sbaglia l'uscita con la palla che gli sfugge e che termina sui piedi di Baldazzi che mette in rete per l'1-0 dei marchigiani Camerlengo protesta per una presunta carica ma di Graci di Como convalida la rete al diciassettesimo ancora Vispesaro pericolosa con un tiro di Bortoletti respinto dal portiere di casa Vastese ancora sotto con i tifosi della curva d'Avalos in silenzio dall'inizio della gara e fino alla mezz'ora Fiore e compagni cercano di reagire ma il nervosismo è evidente al ventiseiesimo azione tambureggiante della Vastese con una prima conclusione di Stivaletta respinta da Varfella prima di una mischia in area marchigiana con le conclusioni di Fiore prima e di Di Pietro poi che mette a lato preme rabbiosamente la squadra di Colavitto che però subisce poi il raddoppio al trentacinquesimo quando il Cese approfitta di una bambola della difesa di casa andando a mettere il pallone ancora alle spalle di Camerlengo piove sempre più sul bagnato per i biancorossi di casa che rischiano di crollare sotto i colpi della Cinica Vis che poi però fa correre un brivido ai suoi tifosi quando al trentottesimo su punizione Fiore Marfella alla deviazione in calcio d'angolo nella ripresa si ricomincia sotto la pioggia e con i padroni di casa alla ricerca del gol per riaprire la contesa ma oltre a tanta buona volontà dei locali c'è poco da dire con la squadra di Mister Riolfo che controlla senza silli gli attacchi confusi degli aragonesi dopo 20 minuti senza emozioni Olcese all'occasione per chiudere i conti ma Camerlengo respinge dalla curva d'Avalos i tifosi aragonesi invitano i propri giocatori a tirare fuori gli attributi la squadra fa quel che può ma il trascorrere dei minuti avvicina il successo dei marchigiani che al 25esimo hanno un'altra opportunità con il neoentrato Cruz che da fuori mette di poco sopra la traversa la partita si trascina stancamente verso la fine mentre la cronaca registra al 35esimo una conclusione di Lucciarini con Marfella che para a terra poi la festa dei 50 tifosi ospiti e i fischi dei supporters di casa all'indirizzo di una vastese che non c'è più e con la curva che rifiuta il saluto della squadra per la vastese ancora una sconfitta ma la possibilità domenica prossima di provare a tornare a sorridere nella gara in casa del fanalino di coda Nero Stellati Pratola e noi rientriamo in studio ma continuiamo a parlare della vastese della crisi della formazione bianco-rossa vedete di spalla sulla pagina del centro Bolami il presidente della formazione aragonese ribadisce la fiducia al tecnico Colavitto noi ieri abbiamo avvicinato al termine della gara Colavis Pesaro proprio il patron della formazione bianco-rossa andiamolo ad ascoltare Presidente Bolami otto partite sette sconfitte non si arresta la striscia negativa di risultati della vastese anche oggi con la Vis Pesaro è arrivata una sconfitta sicuramente quando gira storto purtroppo sappiamo che è difficile raddrizzare la situazione adesso c'è quella calma c'è un po' di pazienza lavoro nel primo episodio ci puniscono è normale che dopo la squadra di giovane è una squadra di ragazzi è normale che soffrono anche della pressione una sconfitta che non cambia tra l'altro moltissimo in classifica però a livello di morale e questa ennesima battuta dal resto potrebbe lasciare il segno ma no guarda il nostro programma era quello di fare un buon campionato di salvarci siamo salvati già l'andata è normale che ripartire così brutto fare queste sette otto partite brutte è normale che dà fastidio soprattutto a noi ai tifosi però questo campionato ti fa capire che è molto difficile e buttiamo le basi per il prossimo campionato lei in settimana aveva deciso per il silenzio stampa di tutti i tesserati per il blocco degli stipendi ma le chiedo dopo questa sconfitta la posizione del tecnico Colavitto è in discussione? no per niente è proprio guarda il mister rimane al suo posto bisogna lavorare il segnale che ho dato per dare un approccio ben diverso a questi ragazzi ma non è infatti uno che blocca i stipendi dare un segnale però oggi sono contento perché i ragazzi hanno dato tutto si sono impegnati abbiamo affrontato una seconda della classe che è superiore a noi però devo dire a questi ragazzi che oggi è stato un buon inizio per le prossime partite dalla curva dalla curva d'Avalos però i tifosi hanno invitato la squadra come si suol dire a tirar fuori gli attributi tifoseria che sta un po' perdendo la pazienza ma guarda il tifoso lo conosco perché io sono il primo tifoso della vastesse però è normale quando perdi dà fastidio loro vogliono sempre vincere però dico anche a loro di stare calmi le ringrazio perché veramente sono attaccati alla meta biancola se è un momento negativo bisogna riflettere lavorare e vediamo di risolverarci al più presto possibile perché ripeto quello che abbiamo fatto non erano i fenomeni prima e nei blocchi siamo adesso ultima domanda Presidente lei stava parlando di futuro negli ultimi giorni si è tornata a parlare di un eventuale interessamento per la vastesse dell'attuale patron del Francavilla Gilberto Candeloro che lei aveva incontrato se non mi sbaglio qualche settimana fa cosa c'è di vero se c'è qualcosa di vero ma con Gilberto c'è un ottimo rapporto ci siamo conosciuti ci sentiamo però adesso non c'è niente di che ci stiamo conoscendo bene vediamo se se ci sono delle possibilità se è fattibile lo facciamo altrimenti è un amico lo rispetta è un presidente che dà tanta passione al pallone ha chiesto di entrare eventualmente in un futuro prossimo nella vastesse guarda è un amico ci stiamo frequentando per altre situazioni perciò niente di che per il momento questa è un'intervista al patron della vastese Franco Bolami noi torniamo al messaggero per parlare un attimo del Teramo tornare a parlare del Teramo per vedere anche come il messaggero commenta il momento difficilissimo dei Biancorossi Teramo bisogna invertire la rotta attualmente la squadra non rientra nei play-out esclusivamente per un colpo di fortuna ma i troppi passi falsi non fanno sperare bene torniamo invece alla serie D una doppietta di Tomassini ed il Pineto si sblocca in casa superato il Monticelli l'ostacolo più difficile il campo molto pesante ieri al Mariani Pavone per noi c'era Roberta Di Sante andiamo a vedere dunque il servizio sulla vittoria della formazione del presidente Brocco contro i marchigiani il Pineto batte di misura il Monticelli al Mariani Pavone torna alla vittoria in una domenica gelida e su un terreno reso pesante e scivoloso dalla pioggia Amaolo Vara per la prima volta in stagione il 4-4-2 inserendo contemporaneamente in avanti dal primo minuto Gragnoli e Tomassini assenti al centrocampo per squalifica Marianeschi ed Esposito rientrano Fiumara e Ciarcelluti nelle fila di un Baby Monticelli invece assente Gesuè per squalifica e Bracciatelli per infortunio capitano Margarita fa da registra dietro Galli e Pedrarulo ospiti subito pericolosi all'ottavo proprio con il centroavanti che anticipa di testa Giacchetta in uscita ma spedisce fuori il Pineto risponde un minuto più tardi con una conclusione dalla distanza di Fiumara che chiama Maragno e la parata in due tempi col passare dei minuti il Pineto cresce e prende in mano il pallino del gioco ma il Monticelli ben messo in campo da Stallone chiude tutti gli spazi ci si affida così ai calci piazzati al 34esimo sul corner di Pezzotti svetta Mariani ma il colpo di testa viene ribattuto dalla difesa Amaule quindi decide di cambiare qualcosa nello scacchiere tattico proprio per dare maggiore vivacità in avanti il tecnico Biancazzurro passa al 4-3-3 avanzando Cercelluti esterno a destra e spostando Gragnoli sulla sinistra e proprio da una discesa di Cercelluti nasce il gol del vantaggio Pinetese con il pallonetto sul secondo palo per la rovisciata vincente di Tomassini che non esulta molto probabilmente perché quando l'azione è partita lo stesso centroavanti commette un fallo su Pierantozzi che poteva costargli caro e che il direttore di gara non ravvede il primo tempo si conclude così con i locali in vantaggio in avvio di ripresa la differenza tecnico-tattica tra le due squadre viene fuori anche se il Monticelli gioca con caparbietà e carattere all'undicesimo i locali avrebbero l'occasione per portarsi sul doppio vantaggio Pezzotti dalla sinistra fa partire il traversone all'indirizzo di Cercelluti Marani esce in maniera scomposta e il direttore di gara decreta la massima punizione Pezzotti si fa parare il rigore dall'estremo a Scolano sprecando l'occasione per il 2-0 alla mezz'ora Stallone mette in campo Marra per Petrarulo e proprio il neo entrato serve Margarita che da due passi costringe Giacchetta la parata in due tempi fortuna del Pineto che il centro avanti ci arriva solo con la punta del piede il finale di gara è concitato al 42esimo il Pineto si complica la vita quando Galli va a conquistarsi di mestiere un calcio di rigore che Margarita trasforma con Giacchetta che non ci arriva ad un soffio e riapre la gara ma la gioia per gli Ascolani dura appena un giro di lancette al 43esimo infatti Tomassini con una bella torsione inzacca di testa a incrociare e riporta in vantaggio i suoi firmando la doppietta personale ma la gara regala ancora l'ultima emozione quando in pieno recupero Galli va in rete ma l'attaccante viene fermato in posizione di offside il Pineto conquista così tre punti preziosi per il proprio cammino e complica oltremodo quello del Monticelli invischiato in piena lotta per non retrocedere siamo sulle pagine del messaggero per parlare ancora della vastese vastese buio profondo la vis basta un tempo e poi in basso le dichiarazioni del patron Bolami ritorno amaro ma puntiamo ai playoff lo abbiamo appena ascoltato e l'Avezzano che era reduce da risultati importanti aveva forse sulla carta il compito più semplice ma ieri al De Marsi biancoverdi non sono andati oltre il pareggio senza reti con il Fabriano il campo pesante ha limitato la formazione marsicana a Catullo ha colpito un palo allora andiamo a vedere quello che è successo nello 0-0 tra Avezzano e Fabriano Cerreto allo stadio dei Marsi l'ottava di ritorno terreno di gioco provato dalle piogge temperature glaciali l'Avezzano contro il Fabriano Cerreto per consolidare il terzo posto Francesco Monaco a viso aperto col 4-3-3 4-4-1-1 disegnato invece da Giampaolo ancora senza Cerone di Curzio l'undici è lo stesso sceso in campo ad Agnone con Bisegna e Dos Santos in attacco comincia forte il Fabriano linea del pressing oltre il centrocampo prima Pellecchia l'undicesimo poi D'Eramo tre minuti dopo provano a sbloccarla nelle prime battute al diciottesimo splendido il traversone offerto da Pellecchia Dos Santos sceglie bene i tempi di intervento palla troppo centrale tutto facile per Spitoni Bambozzi al ventunesimo va dritto in porta su un calcio piazzato dai 30 metri Fanti la blocca di prima intenzione al ventisettesimo il primo corner della gara Bisegna nella mischia palla sporcata che finisce sui piedi di Sbardella il difensore prova la deviazione da distanza ravvicinata Spitoni chiude lo specchio pericoloso il Fabriano alla mezz'ora Fanti a chiudere il primo palo Zuppardo sulla respinta non trova le misure l'Avezzano prende in mano le redini e cuce sul terreno di gioco il solito possesso palla senza però riuscire ad affondare il colpo il primo tempo scivola sullo 0-0 squadra a riscaldarsi per un quarto d'ora si tornerà in campo con gli 11 invariati il primo lampo arriva dai piedi di Pellecchia conclusione dalla distanza palla sul fondo al sesto minuto si lamenta l'Avezzano per questo episodio in area avversaria all'ottavo bel traversone di Lombardo dalla sinistra colpetto Pellecchia che fatica a tenere l'equilibrio e perde il momento per la conclusione doppio cambio al decimo fuori un dolorante Fanti ed Eramo dentro Lombardi e Pollino al quarto d'ora esce anche Bisegna a Priorelli nella mischia e proprio il portiere neo entrato si esalta sul calcio piazzato di Peronullo anche per Monaco il primo cambio di giornata fuori Forò dentro Fenati al venticinquesimo sullo sviluppo di una manovra corale Persia incrocia la botta sul secondo palo sfera out di un niente risponde al ventottesimo il Fabriano Cerreto Bambozzi dal limite scarica il raso terra al veleno Lombardi si distende e la palla carezza il palo e si ripete alla mezz'ora la formazione marchigiana Zuppardo buca la linea difensiva e supera Lombardi ancora in precisa di millimetri la conclusione avversaria comincia a scendere la neve sul dei Marsi e Giampaolo tenta il tutto per tutto fuori Bianciardi dentro un'altra punta Marco Acatullo Fabriano assediato nel finale miracolo di Spitoni su Acatullo al trentottesimo si gioca in 40 metri il Fabriano a chiusura ermetica non dà spazi all'Avezzano Priorelli ci prova da fuori nel pieno del recupero ma non trova lo specchio e ad una manciata di secondi al triplice fischio menna dalle retrovie alla palla che può decidere il match ancora decisivo Spitoni che chiude la trasferta nella Marsica con un punto d'oro per le casse marchigiane l'Avezzano in ciampo ancora contro una piccola e per la seconda volta consecutiva in casa propria resta secco di gol in classifica cambierà poco o nulla e domenica sarà faccia a faccia col Castelfidardo Andiamo a vedere anche l'ultimo servizio di Serie D San Nicolò ritrova il successo in rimonta e stacca la Iesina vedete il titolo in basso al Pacifico Carotti la formazione di Montani si impone per 3 a 2 il servizio di Stefano Recanati Lo scontro diretto per tirarsi fuori dalla zona play-out se lo aggiudica un buon San Nicolò ben messo in campo è arrivato determinato al Pacifico Carotti di Iesi Entrambe le squadre prima della gara erano appaiate a 25 punti in piena zona play-out e desiderosi di far bottino pieno per arrivare alla salvezza diretta il prima possibile Mister Di Donato della Iesina deve rinunciare allo squalificato Sassaroli e al capitano Carotti uscito malconcio dalla sfida di settimana scorsa contro la Vis Pesaro Montani invece deve fare a meno di Massetti e lancia in avanti la punta Tiboni Subito avanti il San Nicolò al sesto minuto con Liguori che entra in area di rigore ma al momento del tiro viene atterrato da aprire e per Pascarella di Nocciano Inferiore non ci sono dubbi per concedere il penalty dagli 11 metri si presenta Giampaolo che non sbaglia due minuti più tardi risponde la Iesina con Magnanelli ma il suo tiro a giro è bloccato in due tempi da Cannella al dodicesimo reclama un calcio di rigore la Iesina per un fallo di mani in area di un difensore abruzzese dopo una punizione battuta da Anconetani ma l'albitro fa proseguire a metà primo tempo occasionissima per la Iesina ventesimo minuto dal calcio d'angolo battuto dalla sinistra stacca più in alto di tutti Pierandrei che non inquadra lo specchio della porta al venticinquesimo arriva il pareggio della squadra di casa cortare spinta della difesa abruzzese ne approfitta Aprile che si coordina e di destro al volo inzacca alle spalle di Cannella 12 minuti più tardi la ribalta la Iesina punizione battuta con il mancino dal terzino Anconetani e complice una deviazione della difesa di Montani la palla si perde in fondo al sacco al quarantaquattresimo ci prova ancora la Iesina ma il tiro di Aprile sul calcio d'angolo di Anconetani non inquadra lo specchio della porta la ripresa ricomincia con gli stessi 22 in campo e con il San Nicolò subito alla ricerca del gol del pareggio ci prova subito Giampaolo all'ottavo minuto ma la sua punizione è facile presa di Tivoni e la Visali al pareggio che arriva al tredicesimo minuto d'azione d'angolo Petronio, Pennella una bellissima palla al centro dell'area e De Santis di testa pareggia per gli abruzzesi risponde la Iesina al venticinquesimo Trudo si porta a spasso sulla destra due giocatori del San Nicolò e serve una palla d'oro a Magnanelli che al volo gira verso la porta ma è super la risposta di Cannella fase centrale della gara con due mister che apportano delle modifiche ai 22 in campo Di Donato inserisce Parasecoli invece Montani manda in campo Paolillo e Moretti al trentunesimo si fa vedere il San Nicolò con Chiacchiarelli che riceve una sponda a Tivoni ma il suo sinistro finisce al lato della porta difesa dal numero uno delle Leoncelle al trentanovesimo la ribalta il San Nicolò con il sesto gol stagionale del neo entrato Moretti che raccoglie un cross di Petronio e spedisce la sfera in fondo al sacco dopo sei minuti di recupero il San Nicolò batte per la prima volta la Iesina in terra marchigiana per 3 a 2 e mantiene vive le speranze per una salvezza senza passare dai play-out notte fonda per la Iesina che viene contestata da suoi tifosi a fine partita Siamo dopo aver chiuso il capitolo sulla Serie D Ampio come sempre ogni lunedì siamo al campionato regionale di eccellenza che ieri ha vissuto una giornata importante con il big match del Rubens Fadini e la vittoria del Giulianova sul Chieti Giulianova sempre più vicino alla Serie D ma andiamo per ordine vediamo le altre partite ventisettesima giornata Martinsicuro batte San Salvo 4 a 2 torna al secondo posto Travolgente l'Angolana che passa a San Buceto per 3 a 1 le altre partite Acqua e Sapone Capistrello 2 a 2 Cupello Miglianico 1 a 1 Torrese Amiternina 2 a 0 River Chieti Alba Adriatica 2 a 2 Tra l'altro c'è anche un titolo che riguarda il torneo delle regioni che verrà presentato mercoledì 7 marzo all'Aurum di Pescara ma come detto quella di ieri è stata la giornata della sfida tra Real Giulianova e Chieti disputata di fronte ad un pubblico numeroso oltre mille spettatori al Fadini vince il Giulianova per 2 a 1 Vitelli consegna la Serie D al Giulianova suo il gol al 38esimo della ripresa per il 2 a 1 Catalli risponde a Lenart ma un lampo del bomber manda K.O. il Chieti i Giuliesi ipotecano la promozione vedete anche il servizio fotografico di questa partita è una vittoria importante ma i giochi non sono fatti ha detto al 91esimo il tecnico giallorosso Piccioni che frena grande gara su un campo quasi impraticabile promozione mancano 7 gare Amaro Marino il tecnico del Chieti alcuni errori ci hanno penalizzato il presidente del Giulianova Bartolini dice a Martinsicuro gara decisiva e il match winner Vitelli esulta e dice dedicato alla società spero di restare a lungo qui Lalli peccato l'attaccante del Chieti ma guardiamo avanti e siamo al campionato regionale di promozione partiamo dal girone A per vedere i risultati anche in questo caso della 27esima giornata Fontanelle Alba Montaurei 4 a 1 Nuova Sant'Egidiese Virtus Teramo 1 a 1 Luco Mosciano 1 a 1 Piano della Lente Pucetta 1 a 0 Cologna Celano 3 a 2 Notaresco Rosetana 1 a 2 Mutignano San Gregorio 0 a 1 vediamo anche il girone B Fossa Cesia Val di Sangro 0 a 0 Sporting Celano Virtus Pratola 1 a 0 Sulmona Real Treciminiere 1 a 0 Castiglione Valfino Delfino Pescara 0 a 1 Fater Sporting Casolana 1 a 1 Piazzano Diatessa Villa 2015 0 a 0 Bucchianico Casalbordino 0 a 0 Passo Cordone Batte Raiano 3 a 0 In classifica nel campionato di eccellenza come detto Giulianova al comando in promozione girone A al comando c'è la Virtus Teramo con 57 punti Pontevomano 52 Luco 51 in coda all'ultimo posto Notaresco con 14 Alba Montaurei Tossicia con 19 nel girone B allunga il Delfino Pescara 57 Valdisangro 52 in coda Palombaro 11 Sporting Celano 27 e poi Pratola 28 Lasciamo il calcio il capitolo calcio lo chiudiamo definitivamente parliamo di volle di palla a volo maschile di serie A2 Seco Doccia Gelata Civitanova con la sconfitta degli ortonesi di mister Lanci per 3 a 1 sul parquet del Potenza Picena i parziali 25 21 18 25 26 24 25 19 Gli ortonesi si piegano al Potenza Picena nuovo infortunio per Banks sabato in trasferta contro La Versa e siamo al basket ancora una sconfitta esterna per il Roseto che spreca tutto nel terzo quarto continua il digiuno di vittoria in trasferta come vi dicevo per gli Sharks a Imola forse sarebbe bastata un po' più di lucidità Imola che si impone su Roseto per 84 a 73 e restano all'ultimo posto in classifica Roseto Orzinuovi e Bergamo con 8 punti basket in carrozzina Amicacci Giuliano va battuta dal Santo Stefano nella giornata di ieri tornando al Roseto le dichiarazioni del tecnico e del coach di Paolo Antonio abbiamo troppi blackout l'allenatore Biancazzurro punta il dito sulla scarsa qualità al tiro all'entro della squadra dall'intervallo e siamo al basket di serie B dove il derby ha sorriso all'amatori Pescara che ha battuto il Campi per 70 a 67 vittoria dunque per pochi punti nel finale termo implacabile è la legge del Palas Capriano 80 a 60 su Val di Ceppo il Gianova in casa invece non sa più vincere passa il Civitanova Marche per 71 a 70 Ortona è il K.O. numero 20 Ortona che perde con Matera 83 a 73 in Serie C la stagione regolare in Corona il Magic Chieti in testa alla classifica al secondo posto c'è il Vasto poi il rugby di Serie A l'Aquila una pausa amara l'11 marzo c'è Prato Sesto la penalizzazione inflitta dal giudice sportivo porta sconforto tra i neroverdi il club è reduce da due sconfitte che compromettono il cammino verso le semifinali e dunque non è un momento positivo per l'Aquila Rugby in vista del ritorno in campo l'11 marzo per la gara con il Prato Sesto noi siamo giunti al termine dell'appuntamento di oggi primo della settimana con Mattino 6 Mattino 6 che tornerà domani puntuale alle 8 io ringrazio Claudio Di Giacomo in regia ringrazio voi per averci seguito vi rinnovo l'appuntamento alle 14 per la prima edizione del TG6 con tutti gli aggiornamenti sull'ondata di maltempo che sta investendo dalla nottata tutta la nostra regione tutto davvero grazie e buon proseguimento di giornata Grazie a tutti Grazie a tutti